La nautica di Viareggio, la camperistica della Valdelsa e il florovivaistico pistoiese sono i tre distretti industriali toscani che nei primi sei mesi di quest'anno hanno registrato il maggior aumento di esportazioni rispetto allo stesso periodo del 2019, l'ultimo anno prima della pandemia. E' quanto riporta il monitor dei distretti industriali presentato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo che attraverso i numeri racconta un'economia in ripresa. A livello nazionale infatti l'export dei distretti registra un progresso complessivo dello 0,7% e ciò significa che nonostante un anno e mezzo di emergenza sanitaria i mercati sono già tornati ai livelli pre-Covid. Tra i settori più dinamici figurano gli elettrodomestici, la metallurgia e l'agroalimentare. In Toscana invece, come detto, è la nautica Via Regina a far segnare l'incremento percentuale maggiore di vendite all'estero con un più 42,2%. A seguire il più 36% della camperistica valdelsana e il più 35,5% del florovivaistico pistoiese. In territorio positivo pure i vini dei colli fiorentini e senesi, l'olio toscano, l'oreficeria di Arezzo e l'abbigliamento empolese, mentre tra quelli maggiormente in perdita ci sono la pelletteria e calzature di Arezzo, la concia e calzature di Santa Croce sull'Arno e il tessile e l'abbigliamento pratese. Esportazioni in calo rispetto al 2019 anche per la pelletteria e calzature di Firenze, che pur perdendo circa il 7%, resta comunque il distretto che esporta merci per il valore maggiore, oltre 3 milioni di euro.